Io ho pensato per voi qualcosa di straordinario. Basta con le armi e il sangue, la vera grande strada del crimine oggi è la legalità. Vedete, nel mondo del danaro è avvenuta una rivoluzione. E sapete chi l'ha fatta? Il piccolo risparmiatore. Un fiume di miliardi ha invaso il mercato. If their activities are criminal, the organisations themselves are not. They are often heavily tattooed, and some are even missing fingers. A punishment for stepping out of line. Un fiume di gamma Un fiume di thirty. Un fiume di lord Un fiume diisis Un fiume di Un fiume di